Nell'ambito del progetto Parsjad, il Cineca collabora con l'Istituto per i beni culturali dell'Emilia-Romagna e con il Dipartimento di archeologia dell'Università di Bologna. Il contributo specifico del Cineca, per il tramite del suo Visit Lab, riguarda l'implementazione di un'interfaccia grafica tridimensionale che possa funzionare come contesto di navigazione di un sistema informativo, nella forma di navigazione di un territorio come quella che vedete ora. Nel caso di studio selezionato d'intesa con l'Istituto per i beni culturali dell'Emilia-Romagna, la base territoriale è costituita dalle aree provinciali di Ferrara e Ravenna. Il sistema informativo oggetto della sperimentazione è quello dell'Istituto dei beni culturali, ma ci si propone di mettere a punto un prototipo applicabile ad altre realtà. Lo studio preliminare ha evidenziato tre tecnologie di particolare interesse ai fini del progetto, Google Earth Plugin, X3D e OSG4 Web Plugin. Tutte presentano buone potenzialità di sviluppo, da verificare in vista del prodotto finale. Quello che vedete, per esempio, è stato realizzato con Google Earth. Per ParseJAD il processo di implementazione del prototipo è stato suddiviso in due azioni. La prima consiste nella creazione di un'interfaccia di partenza in termini di territorio navigabile che consenta di posizionare informazione personalizzata. La seconda prevede la realizzazione dell'interfaccia per la navigazione dei dati all'interno di una specifica ricostruzione 3D. Nel nostro caso si tratterà della modellazione della villa di Russi. In questa fase le attività sono focalizzate sulla prima azione, cioè sulla creazione di un'interfaccia in forma di territorio navigabile con informazione personalizzata. La tecnologia individuata come la più adatta è Google Earth. Interfaccia di grande diffusione e di uso comune corrente, Google Earth garantisce la disponibilità immediata non solo del territorio di interesse, ma dell'intero globo terrestre. Google Earth è un'integrazione di Google Maps rispetto al quale consente di navigare un territorio con caratteristiche 3D. A differenza di Google Maps, che dà accesso unicamente a mappe a due dimensioni, Google Earth permette infatti di esplorare un territorio molto simile al reale. Google Earth permette di passare da una modalità all'altra attraverso il suo viewer. L'originalità della proposta del Visit Lab del Cineca sta nella personalizzazione del territorio, con riferimenti, collegamenti e modelli 3D inerenti dati messi a disposizione dal sistema informativo da collegare all'interfaccia. Nel prototipo per ParseJUD, che state vedendo, sono stati utilizzati i riferimenti GIS per posizionare sul territorio i classici segnalini messi a disposizione da Google Earth. Il territorio mappato comprende alcuni casi di esempio. Quacchio, Brisighella, Casaglia, Castellaccio Massaforese e il teatro Giuseppe Verdi. Nel comportamento standard dell'interfaccia, un singolo clic mostra un balloon contenente alcune informazioni di carattere generale e il link alla pagina corrispondente nel sistema informativo di riferimento. Le informazioni inserite nel balloon sono in questa fase ancora indicative e verranno dettagliate in seguito. Con un doppio clic sul segnalino si può scendere in dettaglio sul sito. La peculiarità dell'implementazione sta nel fatto che la pagina informativa del database, in questo caso dell'Istituto per i beni culturali, non è integrata nell'interfaccia Google Earth, se non in termini di riferimento ipertestuale. In questo modo si ottiene un'interfaccia adattabile alla presentazione dei dati anche di altri sistemi informativi. Sarà possibile aggiungere all'interfaccia una pulsantiera, ad esempio per implementare la funzione di ritorno alla prospettiva panoramica di partenza, dopo essere scesi con un doppio clic sul dettaglio di un luogo di interesse. O anche per inserire un help per la navigazione. Nel nostro esempio si è deciso di linkare direttamente la pagina di help messa a disposizione da Google, anche perché possiede già la traduzione in più lingue. Google Earth consente di aggiungere oggetti personalizzati sul territorio. In questo modo sarà possibile posizionare non solo modelli 3D specifici a bassa risoluzione, quale sarà quello della villa di Russi, ma anche modelli standard per evidenziare diverse realtà, quali siti, musei e altro. È anche possibile inserire immagini significative per evidenziare i siti, come abbiamo per esempio già visto per il caso di Brisighella. È infine possibile definire tour specifici che portino l'utente a navigare percorsi ad hoc sul territorio, come per esempio quello già mostrato nella parte introduttiva di questo filmato. Grazie a tutti.